Musica Una domenica speciale in cui si è respirata già l'atmosfera natalizia, quella appena trascorsa, il COGEIS, il consorzio di gestione degli impianti sportivi che gestisce la piscina di Campagnano a Cosenza. Anche quest'anno, come accaduto per i precedenti, ha voluto regalare a tutti coloro che praticano gli sport acquatici un'intera giornata con una manifestazione denominata Babbo Natale in piscina. La vasca è stata quindi invasa da centinaia di atleti ma anche da semplici appassionati che sono confrontati in gare di nuoto ma anche di tuffi oppure in sedute di idrobike e di ginnastica in acqua. L'intensa giornata ha alla fine portato doni per tutti. Sta portando inizialmente una grandissima giornata all'insegno dello sport. Vedete una tribuna piena con i genitori che stanno accogliendo le gare di questi bambini che a dire il vero è un mese, che si preparano insieme agli istruttori per fare una gran bella figura così come stanno facendo. È un momento di aggregazione, lo dovevamo ai nostri ragazzi, lo dovevamo ai genitori che ogni giorno portano i loro figli sperando in un percorso di crescita sportivo e di vita. Ci stiamo divertendo anche noi. Siamo giunti alla ventesima edizione e questo per noi è motivo di grandissimo orgoglio. Fra i bambini della scuola nuoto saranno 200 piccoli atleti, 200 piccoli campioncini come andiamo a chiamarli noi. C'è stata una dimostrazione di acqua gym, c'è stata la dimostrazione dei tuffi e poi passeremo anche più tardi alle dimostrazioni degli adulti. Abbiamo voluto coinvolgere anche gli adulti in questa gara e speriamo in una gran bella giornata di sport. Fin qui è andato tutto bene. Ringraziamo tutti quanti i genitori, i ragazzi che si stanno cimentando insieme a noi.